Musica Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati a questo sedicesimo notiziario del Melo e del Pero del 25 giugno 2021. Un saluto dalla Col di Retti di Verona, dall'Aipo OP, dal Consorzio Ortofrutta Veneta, dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Verona e dall'Associazione Tecnici Frutticoli. Fase fenologica del Melo, ingrossamento dei frutti. Ticchiolatura, pochi sintomi di infezione su foglia. Nei fruttetti colpiti si dovrà porre attenzione alle infezioni secondarie. Considerato che sono attese possibili precipitazioni, si consiglia di ripristinare la copertura con captano o dodina, fruibili da metà giugno, su tutte le varietà. L'adodina, in miscela con fosfonato di potassio, agisce anche contro l'alternaria. Abbiamo poi il piraclostrobin più boscalid. Pure questi agiscono contro l'alternaria e l'oidio. Oidio. In questa settimana non si sono riscontrati sintomi di infezione. Eventualmente intervenire con zolfo. Afide lanigero, afide verde del melo, afide grigio. Con l'inalzamento delle temperature si è avuto anche un aumento vegetativo che ha creato le condizioni per favorire un maggiore presenza di afidi. Se necessario intervenire con spirote tramatte. Azioni anche contro gli eriofidi. Oppure pirimicarb. Euglia. Catture ancora sotto soglia. Litocollette. Solo limitate catture. Cidia molesta. Presenza di voli. Il trattamento per la carpocapsa controlla anche questo carpofago. Carpocapsa. In esaurimento la presenza di adulti della generazione svernante. Le larve delle nuove generazioni stanno impugnandosi e entro la settimana prossima inizieranno i voli della seconda generazione. La difesa va attuata in contemporanea contro quella per la cimice asiatica. Butteratura amara. Azione di prevenzione con concimi fogliari contenenti calcio. Caduta delle foglie. Sostenere le piante con concimi fogliari contenenti magnesio e manganese. Grandine. Dopo una grandinata effettuare entro le 24 ore un intervento fungicida al fine di cicatrizare le ferite con di tianon o captan. Veniamo ora al perro. Fase fenologica. Accrescimento dei frutti. Ticchiolatura e macolatura bruna. Non sono state rilevate infezioni. È necessario porre attenzione ad eventuali precipitazioni anche di breve entità che possono dare prolungate bagnature attuando trattamento di copertura con zira, metira o captan. Psilla. In più siti controllati si è trovata la presenza di adulti, uova e neanidi. La popolazione va controllata con bicarbonato di potassio o sapone molle potassico. Carpocapsa. Come indicazioni per il melo. E ora vediamo il notiziario della cimice agiatica di questa settimana. In questa settimana si assiste ad un ulteriore calo della popolazione di adulti e ad una impennata molto forte dei giovani, il cui stadio massimo arriva alla neanide di terza età. Vi sono in generale 10 adulti e 14 giovani per le trappole. Nei siti più a nord vi sono in media circa 7 adulti e 16 giovani per trappola, mentre a sud 14 adulti e 11 giovani. Su pero si catturano 13 adulti per trappola, mentre su melo circa 12. Questi dati testimoniano la rapidità di sviluppo degli ultimi giorni, dettate dalle condizioni meteorologiche assolutamente favorevoli con temperature medie che hanno fatto accelerare il ciclo biologico. Dove si ritiene e dove concordato con il proprio tecnico aziendale, si consiglia di intervenire con trattamenti abbattenti. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, nonché di utilizzare prodotti registrati e seguire scrupolosamente le indicazioni in etichetta. Altri prodotti non fitosanitari possono essere utilizzati con azione più o meno marcata verso le ovature e le schiuse, che comunque stanno proseguendo. Ed ora un arrivederci al prossimo notiziario del Melo del Pero.